Adrien Rabiot spiega perché ha snobato il trasferimento di UTD in Juventus-Utarn. Il centrocampista della Juventus e il francese Adrien Rabiot hanno parlato di rimanere al club quest'estate, nonostante il trasferimento concordato con il Manchester United. Benvenuti nel canale. E se ami la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot ha parlato della sua fortuna nel rifiutare l'opportunità di unirsi al Manchester United questa estate. La Francia internazionale era in trattative per trasferirsi a Old Trafford di questa estate, ma la mossa proposta successivamente è crollato su richieste salariali pesante del centrocampista, che gli Stati Uniti non erano disposti a eguagliare. È venuto dopo che i due randelli avevano accosentito una tassa, creduta per valere sterlina a 15.2m. Il United alla fine rafforzò il centrocampo con la giunta di Casemiro dal Real Madrid, rafforzando una squadra che aveva già assicurato la giunta di Christian Eriksen come free agent dopo la scadenza del suo contratto a Brentford. La ricerca di Rabiot e il successivo fallimento dell'accordo avevano continuato una caotica estate di attività di trasferimento dagli Stati Uniti che non ha attirato carenza di critiche. Il mancato accordo per il centrocampista era seguito da un inseguimento estivo del centrocampista del Barcellona Frenkie de Jong. Rabiot è stato successivamente un pilastro nel centrocampo della Juve in questa stagione, iniziando 16 partite in tutte le competizioni in pochi mesi tumultuosi per il club. Nonostante i risultati interni si siano stabilizzati nelle ultime settimane, la squadra di Max Allegri ha subito un'imbarazzante uscita dalla fase a gironi di Champions League, perdendo cinque delle loro sei partite. Le prestazioni di Rabiot ai giganti di Torino hanno attirato critiche nel corso degli anni, ma ha colpito nel cuore del loro centrocampo questa campagna, in particolare in assenza di Paul Pogba, che è tornato alla Juve dopo la scadenza del suo contratto a United questa estate. Vuoi avere notizie veloci ed esclusive su Juventus? Iscriviti al canale e clicca sulla campana per non perderti nulla!